Ciao a tutti streghe e stregoni, bentornati in Accademia. Vi sto parlando molto in queste lezioni quest'anno di Ecati perché ovviamente ci sono dentro e ho iniziato il suo percorso e quindi è ovvio che molte delle nuove conoscenze o approfondite conoscenze eccetera che io vi sto condividendo quest'anno sono date dalla mia connessione con questa divinità specifica. E vi dico non sia mai che possa essere utile a voi anche questa cosa che anche io nutrivo un certo distacco. Era molto particolare la cosa perché io percepivo una grande appartenenza a lei, si può dire così, perché io la provo in tal maniera, una grande passione, una grande devozione, ovviamente passione devozionale. Ho fatto altre esperienze, devo dire, con altre divinità, anche molta, però non ho mai sentito una divinità vicina a me come lei, come Ecate. Eppure al contempo, dopo tutto quello che veniva detto su di lei, perché ovviamente mi sono informata e ho continuato a informarmi più che potevo in tutti i modi possibili, anche cercando nelle librerie universitarie su questa idea, quindi ovviamente mi sono fatta anche abbastanza una cultura, però questa cultura in realtà non è che mi ha aiutato poi così tanto nella percezione di lei, perché ovviamente sì che mi informavo è utile, è doveroso informarsi su una divinità quando si vuole iniziare a comunicare con lei, avere un rapporto con lei, nutrirlo, eccetera. Questo è ovvio e è doveroso, no? Però queste informazioni, queste visioni, poi ognuno ovviamente ne ha di proprie, la propria visione praticamente è data dal proprio modo di percepire una certa energia, una certa fonte, quindi è normale che ognuno abbia la propria, e che differiscano poi l'una con l'altra molto, veramente notevolmente. Molti parlano di Yekate nei vari scritti in una maniera con timore, sì un timore reverenziale, ma timore, alcuni magari anche esagerando da quello che lei stessa mi sta insegnando, eh? Perché poi, come dice lei, ognuno avverte e vede lei con le facce che più rispecchiano quello che ha da imparare, affrontare di se stesso. Sono le facce della Dea, ma filtrate attraverso ciò che è adatto alla strega, lo stregone che si interfaccia con lei. Questo è molto importante, fa luce su quanto poi in realtà noi vediamo di quella divinità. In realtà in ogni connessione con un Dio, con una Dea, c'è tanto di noi stessi. E anche per quanto riguarda quello che io ho visto come apparizione, se vi ricordate, a Sawin, lei è parsa e subito lei mi ha spiegato come io la stavo vedendo. Parlava sia molto di lei, perché ho i canali molto aperti e chiari, questo è molto importante, eh? Ma solo per un motivo, ve lo dico sempre, qual è l'unico modo per avere i canali di visione chiari, limpidi e con meno filtri possibile, semplicemente una cosa sola, molto molto semplice. Bisogna soltanto avere grande desiderio di conoscere la verità, anche se magari fa male. Questo rivolto a tutti gli ambiti, i settori della vita, il che denota grande coraggio, devo dire. Però capite bene che tutti noi possiamo schiarire la nostra visione. Non si può togliere tutti i filtri da noi, perché noi abbiamo assunto un carattere dalla nascita. Quello è l'ego e non è qualcosa da demonizzare, come praticamente tutti nella spiritualità fanno. Parlo degli insegnanti, eccetera, presunti tali. Non dobbiamo ricercare un'assenza della personalità nostra, perché l'esperienza umana sarebbe quindi privata del suo senso. Noi assumiamo un carattere, assumiamo dei ruoli nella nostra vita, perché attraverso quelli che dobbiamo fare, le determinate esperienze che ci siamo messi in conto di provare, le determinate prove che ci siamo messi in conto di affrontare. E se ci riusciamo di superare con quel carattere, con quella personalità, è molto importante. Ecate ci rende noto che è talmente cosa buona abbracciare questa idea di noi stessi, con accettazione e maturità, che lei stessa si fa vedere ad ognuno in maniera differente e spiega quanto di vero ci sia nella stessa visione attraverso i filtri che abbiamo, che non ci danno illusione, ma ci danno verità di come noi percepiamo noi stessi, di come noi viviamo. A me, Ecate, di solito, è sempre apparsa come la crona, quindi la anziana, saggia, potente. Di solito mi appariva solo in questa versita e soltanto a Sawin, lei mi è apparsa con tutte e tre le sue facce, lei al centro, predominante, più vicina a me, la centrale. Effettivamente è così, io dentro di me miro a lei, miro alla versione saggia e quindi anziana, nel senso più sapiente del termine ovviamente, la vera strega che è in me. A volte oscura, potevate vedere che un occhio era nero, l'altro si intravedeva che, insomma, era un occhio fatto bene, anche se posto verso l'oscurità. Anche in questo c'è molto da dire, anche in questo si rivela l'oscurità, che per me ha un grandissimo significato meraviglioso però, pieno di luce, della dea, crona. Dietro poi, dietro la crona, c'erano le altre due. Dietro poi, dietro la crona, c'erano le altre due. Dietro poi, dietro la crona, c'erano le altre due.